Manuele Olandi di Confessor Centi di Wicoff che organizza Floreale, l'undicesima edizione che torna dopo la pandemia, che edizione è per Alessandria? Un'edizione di rinascita in cui sboccia davvero la primavera ma sboccia la città perché Floreale si svolge ai giardini ma con tantissimi eventi collaterali ai giardini stessi ma anche nelle vie del centro storico e nel cuore della nostra città e i soggetti coinvolti sono davvero tantissimi, istituzioni, commercianti, associazioni di volontariato, associazioni culturali, questa riprova che c'è proprio una voglia di sentirsi comunità, di lavorare in squadra per far qualcosa per la propria città, per animarla, per coinvolgere dalle poetesse ai commercianti, per coinvolgere dagli sbandieratori, ai bonsai, dalle sfilate di moda, alle auto d'epoca e allo spettacolo delle farfalle, veramente un programma ricchissimo che cerca di andare incontro a tutti i gusti. Saranno oltre 40 gli espositori invece ai giardini oggi e domani provenienti anche da varie regioni? Provengono gli operatori del florovivaismo dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia e anche dalla Toscana e quindi sarà un modo per conoscere anche le novità dei fiori, delle piante, dei complementi d'arredo con cui addobbare i nostri terrazzi, i nostri giardini e ci fa piacere che operatori che arrivano da fuori Alessandria scelgano, nonostante la grande offerta commerciale, la nostra città per esporre i loro prodotti. Grazie.